Ciao a tutti, popolo del tubo, oggi siamo in un nuovo devblog su Farming Simulator tra devblog e fact sheet, piano piano praticamente stiamo conoscendo a piccoli passetti tutto il gioco e come io vi avevo promesso mesi e mesi e fa mesi e mesi e fa, ma come parlo? mesi e mesi fa, vi porterò pian piano, mano nella mano non proprio al gioco, perché comunque il gioco uscirà il 20 novembre e come dico sempre ci saranno i primi youtuber che avranno la Kay in anteprima della Giants e Kay, che io avevo richiesto anche a pagamento ma la Giants non mi ha nemmeno risposto comunque, dicevo, avranno la Kay in anteprima e quindi io smetterò di parlare di Farming però ecco, fino a quel momento io ho un canale YouTube è un canale che deve informare su Farming in generale ma soprattutto su Farming 19 e quindi non posso non fare vlog di continuo perché qualcuno mi ha detto sì, ma tutti questi vlog, tutta sta attesa oh, è questo far canale se ne va bene, va a guardare i puffi che te devo dire? allora, creazione del personaggio ragazzi creazione del personaggio questo DevBlog ci fa vedere come cambia il personaggio praticamente questo l'abbiamo già visto in PurFarming io lo dico a bassa voce ma è una cosa che insomma non è proprio così è nuova per Farming Simulator ma non è proprio così innovativa ma andiamo a leggere proprio nello specifico il testo ufficiale del DevBlog dice benvenuto nell'ultimo DevBlog quindi questo sarà l'ultimo DevBlog ragazzi dove esamineremo le nuove opzioni di personalizzazione del personaggio nuovo e migliorato in questa versione è stato molto importante per noi che l'aspetto del tuo personaggio e quello che indossa siano diversi come le opportunità che hai altrove nel cantiere scelta della carriera posizionamento e layout del cantiere cantiere forse si intende la farm personalizzazione del veicolo e così via il personaggio rappresenta il giocatore nel mondo di gioco e capiamo che è importante per i nostri giocatori identificarsi con lui o lei ecco perché abbiamo ampliato le opzioni di personalizzazione diamo un'occhiata a ciò che è possibile in Farmiche 19 ci sono 8 diversi modelli di personaggi dai quali i nostri giocatori possono scegliere 4 di loro sono maschi e 4 sono femmine i giocatori possono anche scegliere tra 4 diverse acconciature o indossare un berretto se preferisco abbiamo introdotto alcuni cappucci diversi e quasi tutti i marchi sono rappresentati quindi ci saranno dei berretti dei cappucci con i vari loghi di tutte le marche presenti nel gioco questa è una gran figata questa è una cosa cagliarda ovviamente è ancora possibile cambiare il colore della maglietta i personaggi maschili hanno anche la possibilità di indossare una giacca infine c'è la possibilità di indossare un paio di occhiali da sole e vedremo alcuni esempi quindi diciamo i modelli base sono 8 4 maschi e 4 femmine come vedete qui ci saranno quindi gli 8 modelli 4 maschi e 4 femmine e qui i 4 tipi di acconciatura stavo soffocando gli accessori sono gli occhiali hat che dovrebbe essere il cappellino con le varie marche e i maschi avranno l'opportunità di avere anche una giacchettina questi sono i soliti colori ragazzi e qua ovviamente il vostro nome qui i ragazzi ci fanno vedere un esempio va bene questo l'abbiamo visto poi c'è il tipettino qua di colore eccolo qua vedete poi c'è la ragazza la ragazzuola Laura qui è chiamata come Laura guardate tra l'altro Laura è il cappellino JD non so se avete visto il cappellino JD fighissimo poi questa c'è la nera il cappellino ma non riesco a riconoscere Marie qua che tipo di sponsor che tipo di logo abbia e questo proprio è da figaccio cioè io non ho mai visto però un contadino che va a lavorare così con l'occhialetto così vabbè comunque questo è da figaccio ragazzi è un po' poco devo dire cioè non è che ci strappiamo i capelli infatti nemmeno volevo farlo questo video ma devo farlo ragazzi per dovere di cronaca lo so che vi dico poco vi dico un'altra novità però che qua non dicono che grazie a un utente che va a leggere il forum della Giants in inglese e se lo ritraduce in inglese tedesco lui poi se lo ritraduce sono troppo vigro per farlo ma per fortuna ho degli ottimi iscritti degli ottimi follower che dovrebbe essere MrCorbo91 spero di aver detto bene il nick mi ha detto che ufficialmente la Giants del suo forum ha detto anche che le galline si potranno acquistare e vendere quindi finalmente quello che in farming 17 non era possibile farlo io adesso non mi ricordo se era possibile farlo negli altri farming e mi pare che il mio amico AgriGamer mi abbia detto di sì però nel 17 l'avevano tolta sta cosa quindi finalmente si possono ricomprare e vendere le galline poi un'altra piccola cosa per chiudere la Samsung ha fatto uscire altri due screen con la Samsung ricordiamo che si occuperà nel gioco di spandi letame e spandi liquarme come potete vedere questa a vederla credo che sia la mappettina americana quello che mi butta a me sempre nell'occhio è il fatto che le texture del campo e dell'etamato sono sempre quelle e poi anche questo qua questo qua della liquamatura e come potete vedere anche in questo farming sicuramente la liquamatura non avrà una sua texture ma semplicemente come vedete uno scurimento si dice scurimento scurizione scuravizzazione ecco sceglietevi il termine del terreno né più né meno però insomma devo dire che questo verde Samsung mi piace si è poi collegato al JD come potete vedere ci sta meglio al JD che al Fend questo sopra è il Fend questo è proprio verde JD questo questo della Samsung niente raga questo questo è quanto io so noi ci vediamo venerdì per un altro fact sheet finché ne usciranno l'ultimo è stato un po' queste ultime due cose l'ultimo fact sheet e questo ultimo dev blog sono un po' deludenti non è che ci stanno a far vedere speriamo che ci lasciano i bocconcini questi salienti ce li lasciano per la fine insomma le cose un po' più salienti detto questo ragazzi vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i miei social venite su Discord c'è anche il link Discord c'è il link per comprare i giochini scontati su Istant Gaming tra l'altro ragazzi c'è Assassin's Creed a una cinquantina d'euro quindi approfittatene e c'è addirittura Oregon l'ultimo DLC di Eurotrack che nel momento in cui sto registrando sta 8 euro quindi ragazzi andate a vedere il link qua sotto e poi ragazzi il link è per fare una piccola donazione al canale che serve sempre ragazzi per andare avanti e niente lasciate un like condividete noi ci vediamo al prossimo video e al prossimo video su Fabio e ci vediamo 12 a 9 ciao 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 ciao